E' Luca D'Angelo, il nuovo allenatore della Fidelissandria. Pescarese di 44 anni, il tecnico scelto dal presidente Paolo Montemurro e dal direttore sportivo Piero Doronzo risponde all'identikit che proprio il nuovo DS aveva fatto in occasione della sua presentazione ufficiale. D'Angelo infatti, prima dell'esperienza ad Alessandria nel girone A della Lega Pro, squadra con la quale ha disputato l'ultima stagione, aveva cominciato la sua avventura da tecnico con gli allievi del Rimini, società con la quale aveva esordito nel calcio che conta nella stagione 2012, quando la società romagnola era ripartita dalla Serie D. Che questo fine settimana era annunciato come quello decisivo per la scelta del nuovo tecnico, lo si era capito già durante la conferenza stampa di presentazione di Doronzo. D'Angelo di fatto supera tutti i candidati che in queste settimane erano stati accostati alla panchina della Fidelissandria. Da Favarin sarebbe stato un ritorno dopo la separazione avvenuta al termine del campionato di Serie D, senza dimenticare Zavettieri e Alberti, sino al giovane Leonardo Colucci, sondato dalla società Biancazzurra ma trattenuto a Bologna alla guida della primavera per volontà del direttore sportivo Pantaleo Corvino. Luca D'Angelo nella sua lunga carriera di calciatore invece ha vestito le maglie del Chieti, all'esordio, della Fermana, del Giulianova e del Rimini, squadra con la quale ha conquistato la promozione in Serie B prima di chiudere a San Marino.